Ligthorker per diffondere la luce, insieme. Traduzione Madda Cermelli da Ronna Herman. 1 gennaio 2014. Siete pronti ad incorporare l'energia del vostro fuoco sacro? Io sono l'Arcangelo Michele. Amati maestri. Siete venuti da universi, subuniversi, galassie e pianeti lontanissimi, portando con voi una ricchezza di informazioni cosmiche, che sono state archiviate nella vostra sacra mente per un accesso futuro. C'erano severi requisiti, che dovevate avere e voti solenni, che dovevate fare. Avete accettato di venire sulla Terra durante questi epocali tempi evolutivi, per poi incarnarvi in circostanze molto diverse e spesso molto difficili. Avete fatto una promessa, che quando fosse arrivato il momento per voi di avviarvi sul sentiero dell'Ascensione, ci avreste permesso di mettere da parte il vostro libero arbitrio affinché potessimo prendere le misure, che ritenevamo necessarie per risvegliarvi. Per molti, si è tradotto in una fusione d'anima, ed altri che si erano già risvegliati al loro sé spirituale erano pronti per la fusione con un aspetto del loro sé superiore. Quando l'anima finalmente si fonde completamente con il Sacro Cuore, è una splendida riunione di proporzioni monumentali. Quando le vostre intenzioni sono composte dalla saggezza sovrapposta dall'amore e proiettata con purezza, diventate una potente fonte di energia del Fuoco Sacro. Questo risveglio ha provocato un malcontento divino collettivo tra quella che chiameremo l'Avanguardia. Tutti voi avete sperimentato alcune delle diverse ed importanti trasformazioni, che hanno avuto luogo tra le masse. Avete anche osservato o siete stati influenzati dai cambiamenti accelerati della Terra, che sono aumentati in frequenza, e stanno continuando su base regolare. La maggior parte di voi, che consapevolmente avete fatto uno sforzo per rivendicare la vostra Divinità, con qualsiasi mezzo da cui eravate barra siete attratti, si trova tra questo gruppo avanzato di anime. Avete accettato di essere d'esempio e siete disposti a fare tutto ciò che è in vostro potere per rendere la strada agevole per gli altri, diventando sentinelle di luce, apripista e servitori del mondo. In epoche passate, il processo di ascensione era disponibile solo per coloro che si incarnavano come iniziati fermamente sul sentiero come discepoli la cui missione era quella di ancorare quanta più luce divina e trasmettere quanta più saggezza cosmica possibile. Quel tempo è passato. È un periodo di ascensione di massa, perché tutti i pianeti, i sistemi solari, le galassie ed i subuniversi all'interno di questo universo sono attivamente coinvolti in un processo di ascensione senza precedenti. Le ruote della creazione vorticano sempre verso il basso o verso l'alto, verso l'interno o verso l'esterno, a seconda del grande ciclo cosmico del tempo. La mente superconscia e le molteplici sfaccettature del vostro sé superiore sono il collegamento con i regni spirituali. Da prima, potete iniziare ad avere lampidi informazioni barra espirazione attraverso le vostre capacità intuitive e durante la meditazione. I poteri della mente vengono notevolmente aumentati quando un aspirante sul sentiero diventa più abile e sicuro nell'usare i modelli di frequenza superiore della sacra mente. Di conseguenza attingendo ai regni di frequenza superiore della struttura cerebrale, una buona parte della vostra memoria degli eventi passati inizierà a svanire mentre uscite dal regno del cervello barra mente istintuale verso il regno della mente superiore. L'ascensione e espansione della mente, un processo di passaggio da uno stato di coscienza ad un altro. La consapevolezza si espande per includere tutta l'umanità, la Terra, il sistema solare ed il suo funzionamento. La concentrazione non è più sul piccolo sé. L'obiettivo finale è quello di diventare un essere galattico e raggiungere infine una coscienza universale. Mentre diventate efficienti nell'accedere al potere e alla maestà delle dimensioni a frequenza superiore voi iniziate ad avere un assaggio di come possa essere meraviglioso il paradiso e l'entusiasmo inizia a crescere. Questo è ciò che sta succedendo in tutto il mondo. È un'esperienza molto personale, perché potete avere confusione, disordine e caos intorno a voi ed essere comunque centrati nel calmo occhio della pace e della gioia. Con il passare del tempo, vi accorgerete che il vostro centro di pace si estenderà sempre di più, e quando sempre più di voi iniziano ad attingere all'eterno potere della perfezione, esso si diffonderà sempre più velocemente fino ad abbracciare il mondo. C'è agitazione tra le masse, quelle che fino ad ora non erano pronte ad ascoltare gli ammiccamenti interiori dello spirito o ad approfondire i misteri della creazione, che stanno iniziando a fluire sulle correnti dei raggi a frequenza più alta della nuova matrice divina. Abbiamo detto che siete stati molto coraggiosi ad uscire fuori dalla vostra zona confortevole, dal flusso della coscienza di massa delle credenze popolari per entrare in un territorio inesplorato. Siete stati disposti ad affrontare le molte sfide e prove, e non siete stati scoraggiati da chi diceva che avevate torto, eravate malvagi o illusi. State dimostrando che quello che avete accettato come vostra verità sta davvero funzionando, e la convalida è concreta e visibile agli occhi di tutti così che non ci può essere alcuna controversia. La paura è il più grande deterrente per cambiare, ma state imparando ad omare le vostre paure e state rivendicando la vostra sacra forza di volontà. Ogni volta che visitate la vostra piramide di luce nella quinta dimensione, diventate più abili ad attingere ed usare i doni della creazione, e portate indietro con voi sempre più sostanza di luce rarefatta non manifesta della quinta dimensione. Osservate questi flussi di luce, che vorticano verso il basso nei regni fisici di espressione, mentre a poco a poco diventano tangibili e prendono forma sotto la vostra direzione attraverso le vostre visioni, sogni e chiaro intento. Molti di voi hanno imparato la disciplina necessaria per mantenere le vostre visioni, senza vacillare, e state imparando che i miracoli della manifestazione avvengono, un pensiero chiaro, un passo o azione, ed un giorno alla volta. Non ci sono scorciatoie, amati, dovete seguire le leggi universali della manifestazione al fine di sfruttare la potenza della creazione. Siete chiamati a far parte del team di leadership della luce, coloro che indicheranno la strada alle belle anime che adesso si stanno risvegliando dal loro torpore spirituale. Ne servono a migliaia per facilitare ed assistere in questa successiva ondata di risveglio, che è ora in corso, perché abbraccia milioni e milioni. Anche quelli che ancora negano stanno diventando consapevoli, che qualcosa di profondo e senza precedenti sta avvenendo sulla Terra. Queste anime non dovranno passare attraverso l'enorme processo di pulizia, compensazione e trasformazione dolorosa, che molti di voi hanno sperimentato. Voi avete effettivamente aperto la strada ed avete la conoscenza, che li aiuterà a muoversi rapidamente attraverso il processo di risveglio e verso l'acquisizione di potere. Voi siete gli esempi e gli aprippista, perché siete destinati ad insegnare alle persone intorno a voi i passi semplificati necessari per cancellare i loro vecchi schemi di pensiero, in modo che la luce divina del Creatore possa iniziare a prendere il dominio nel loro centro del cuore. Voi siete i giocatori principali, miei coraggiosi, mentre ci spostiamo verso la successiva più elevata spirale di evoluzione. A questo punto, ci auguriamo che stiate iniziando ad accettare ciò che vi diciamo, che siete tutti esseri bellissimi, che portano una preziosa scintilla del Creatore nel loro cuore barra anima. Lasciate che il vostro Sé superiore vi ispiri e vi guidi, tutti, ma per favore andate alla ribalta ed usate la conoscenza, la saggezza ed i talenti, che sono stati ottenuti a così caro prezzo. Carissimi, voi siete un insieme di tutte le vostre esperienze e ricordi passati. Avete avuto molte vite come donna in cui siete state abusate o maltrattate dagli uomini, e molte vite in un corpo maschile in cui avete sofferto per la perdita della vostra amata compagna, siete stati traditi o non vi siete distinti in alcun modo. Tutte quelle energie conflittuali all'interno delle vostre cellule, del campo aurico, e della struttura cerebrale coloreranno la vostra visione del sesso opposto finché non le risolvete e trasmutate. Al centro del vostro essere, ciò che state veramente cercando è la riunificazione con l'altra metà del vostro Sé divino, quel perfetto raggio divino della Creazione, che fu inviato nella sua totalità. Vi siete poi separati in due sottoraggi, uno raffigurante il Creatore Padre e l'altro una rappresentazione del Creatore Madre. Da allora vi siete divisi e separati in molti aspetti o frammenti di coscienza, ma avete sempre anelato e cercato il vostro ritorno alla pienezza e alla coscienza di unità. Come potete ottenere la guarigione e la riunificazione di questi due aspetti primari di voi stessi? In primo luogo, sviluppando un senso di autostima ed amore per se stessi. Inizierete ad irradiare questa energia vibratoria superiore fuori dal vostro campo di forza aurico, ed altri risponderanno allo stesso modo. Imparate a fidarvi di voi stessi e della vostra intuizione in modo che possiate fidarvi degli altri. Non vi sentirete mai soli quando imparate che avete la potente forza degli angeli sempre accanto a voi, pronti a proteggervi, incoraggiarvi, amarvi e sostenervi in ogni momento del giorno o della notte. Lasciate andare il dolore del passato perdonando voi stessi e tutti gli altri. Ci saranno ancora persone che entrano nella vostra vita con le quali non sarete in risonanza, e sarà così finché siete nel vascello fisico. Se riuscite a mantenere un atteggiamento di non giudizio, e ad irradiare amore verso l'essenza di ogni persona, non dovrete sperimentare una danza karmica o interazione con loro. Benediteli e permettete loro di seguire il proprio percorso, mentre voi seguite il vostro. È tempo per l'umanità di rimuovere gli scudi eterici di protezione, che ha posto sui propri centri del cuore barra plesso solare in modo, che non possa essere ferita o indebitamente influenzata. Aprendo il portale del sigillo d'oro del Sacro Cuore, dove risiede la vostra cellula divina dal nucleo di diamante, permettete all'amore barra luce di Dio nostro Padre barra Madre di fluire liberamente sia dal portale posteriore sia dal portale anteriore del Sacro Cuore. Amati, vi è un altro concetto importante, che vogliamo presentarvi. Così facendo, sappiamo che questo risveglierà la paura ed il dubbio per molti di voi. Se così fosse, vi chiediamo di mettere da parte l'informazione, e chiedere che venga convalidata se deve essere la vostra verità, o se è troppo scomoda, semplicemente ignoratela. Ci sono molte informazioni emergenti che sfideranno i vecchi concetti del mondo e le forme pensiero del passato. Proprio come i bambini imparano i semplici concetti di base della vita nei loro primi anni, le lezioni la conoscenza diventano più complesse e stimolanti per il pensiero mentre maturano. Questo concetto si applica anche alla vostra formazione e crescita spirituale. Vi abbiamo detto che il Creatore Supremo ha iniziato ad emanare la rarefatta essenza d'amore barra luce dal centro cardiaco del suo essere le particelle adamantine di pura sostanza di luce divina. Questa essenza contiene tutte le sfaccettature della creazione, che comprendono i pensieri semenza, le componenti energetiche ed i grandi progetti per nuove creazioni mai sperimentate prima. All'interno di questi meravigliosi molteplici fasci di luce del Creatore ci sono dei raggi di nuova attivazione, dei raggi dello spettro nero di puro potenziale in manifesto. Il Creatore invia questi raggi in dono attraverso tutto questo universo, perché essi contengono la quiete del grande vuoto, che sarà accessibile a tutti coloro che hanno abbastanza coraggio da attingere alla magnifica potenza del vuoto dello spazio, in modo da essere dei partecipanti alla creazione di futuri mondi e galassie. Prima venne il vuoto e poi venne la luce, e all'interno della luce vi erano tutte cose buone e meravigliose. Lo spettro della luce non sarebbe distinguibile senza le mille sfumature dell'oscurità. Molti di voi temono il buio ed il proprio lato ombra, percependolo come il male. Amati, se tutto è una parte dell'Uno, il Creatore, come ci può essere qualcosa da temere quando siete pieni di luce divina? Voi come umani avete creato molte cose da temere, ma queste cose non sono opera del Creatore. Temete il grande vuoto che è lo sfumato. mondo per le stelle e le costellazioni? Alcuni di voi temono la notte, ma non è l'oscurità che potete incolpare, ma le cose offensive che gli umani fanno con la copertura delle tenebre. Desideriamo aiutarvi ad iniziare ad indagare e trasmutare quei vecchi concetti autolimitanti affinché possiate ampliare i vostri orizzonti e prendere il vostro mantello di luce. Con il dono della luce arriva una grande responsabilità, il ruolo di leadership che abbiamo delineato per voi in precedenza. Vi chiediamo di vivere la vostra vita con un elevato senso di consapevolezza, per sentire la gioia di essere collegati a tutto ciò che è e poi condividerla con gli altri, per usare la vostra forza di volontà per muovervi rapidamente lungo il sentiero dell'illuminazione, così che quando guadagnate un punto di vista più alto, potete aiutare gli altri più facilmente nei punti accidentati. Sforzatevi di amare gli altri con tutto il cuore e l'anima, come il Creatore ama voi, di esprimere la vostra verità più alta con amore, compassione e discernimento, di vedere il meglio in ogni persona, e sapere che siamo tutti parte dello stesso grande Io sono preziosi amici, abbiamo iniziato e concluderemo questo meraviglioso viaggio insieme. Vi incoraggeremo, allargheremo le vostre menti e richiameremo la vostra attenzione, quando è opportuno, ma soprattutto, vi ameremo in Eterno. Io sono l'Arcangelo Michele. Eterno